Ragazzi buona serata a tutti, qui sono le 2 e 20 in questo istante, eccomi ormeggiato in questo splendido marina di Halifax dove ovviamente ero atteso e allora la decisione di partire oggi è stata un po' complicata perché nella realtà questa notte arriva l'uragano che è stato declassato a 1 o comunque tempesta quindi nodi di vento intorno ai 50, massimo 60 e abbiamo, insomma siamo tutti abbastanza preoccupati qui ognuno cerca di mettere più cime possibili per cercare di tenere a bada dal vento le proprie barche Allora oggi una navigazione decisamente spettacolare ma la quiete prima della tempesta e dopo la tempesta c'è di nuovo la quiete quindi praticamente oggi vento praticamente zero, 4-5 nodi, veramente nulla di chi è onda lunga e infatti ho ottenuto una media altissima, 8 ore e 50 di navigazione per i 240 miglia comprese anche la sosta per fare il travaso di carburante e fare i prelievi del CNR Vi aggiornerò sicuramente domani, nel frattempo io vi ringrazio a tutti e grazie sempre di tutto Da qui poi c'è il salto per gli Stati Uniti, questo è l'ultimo porto del Canada